Una single bella, colta, intelligente, ha un lavoro che le piace, è sempre in contatto con la sua famiglia di origine che la ama molto, insomma una donna dal comportamento irreprensibile, serena, senza apparenti problemi, che improvvisamente però sparisce nel nulla, insieme a una scatola di francobolli, una scomparsa ancora oggi avvolta nel mistero. È la storia incredibile di Marina di Modica a donne, vittime e carnefici. La scatola di Modica Il caso che vi raccontiamo questa sera è un vero e proprio giallo, perché è di difficile soluzione, soprattutto perché prima di essere risolto passano davvero moltissimi anni. Tutto comincia all'8 maggio 1996, quando una logopedista di Torino, tale Marina di Modica, improvvisamente sparisce nel nulla e non verrà mai più ritrovata. La scatola di Modica Marina è una donna precisa, meticolosa, puntuale, non arriva mai tardi al lavoro. Alle 16.42 dell'8 maggio 1996, quando esce dalla USL, così si chiamavano una volta le ASL, dove lavora come logopedista, saluta la collega e soprattutto le ricorda di non arrivare in ritardo alla riunione che è stata organizzata per il giorno successivo, una riunione importante. Ma quella riunione, fissata per il 9 maggio, alle ore 11, Marina non si presenterà mai. Quando scompare Marina di Modica è una logopedista di 39 anni, single, molto legata al proprio lavoro. Di lei si perdono le tracce alle 11 del mattino del giorno successivo, il 9 maggio, perché avrebbe dovuto presentarsi ad una importante riunione di lavoro e invece questo non accade. Le colleghe iniziano a preoccuparsi. Una di loro, Paola Guglielmino, decide di telefonare al padre di Marina per informarlo dell'assenza della figlia sul posto di lavoro. Ma no, è uscita alla solita ora, è molto precisa negli orari, mi sembra strano questo. La prima preoccupazione del padre è che sia accaduto un incidente domestico. Telefona di Emilia Sola, sua futura nuora, per recuperare una copia delle chiavi di casa di Marina. Abbiamo sempre quel mazzo di chiavi doppione della casa di Marina? Partono le ricerche di Marina, la famiglia è preoccupata, pensa che le sia successo qualcosa. Ritiene che Marina non aveva nessun motivo per lasciare tutto, abbandonare e scappare via. Non si pensa assolutamente ad una foca volontaria. Tant'è che Marina aveva anche tutta una serie di programmi per le ore e per i giorni successivi. Aveva fissato un appuntamento con un suo cuore amico, con il quale stava cercando di organizzare un viaggio in Turchia da fare in moto per l'estate successiva. Aveva anche fissato un appuntamento con un suo paziente, per cui non c'era alcun motivo, ripeto, per lasciar perdere tutto all'improvviso e andare via. Il 9 maggio, nel primo pomeriggio, il padre di Marina, la sua compagna ed Emilia Sola entrano nell'appartamento di Marina. La famiglia va a casa e trova una casa chiusa, la porta era chiusa a chiave, non presentava segni di scasso, c'era un normale disordine, non c'era nulla che facesse pensare a una fuga, il passaporto c'era. Sembrava la casa di una persona che era uscita e che sarebbe rientrata di lì a poco. Alla sera Marina aveva un altro appuntamento con degli amici. Questi amici decidono di recarsi ugualmente all'appuntamento, ma anche a questo appuntamento Marina non si presenta. Da qui nasce subito l'idea che Marina sia scomparsa. Niente? Niente. Il giorno dopo, il padre denuncia ufficialmente la scomparsa della figlia. Il 12 maggio, gli amici di Marina si mettono quindi alla ricerca della sua auto, una Y10 Amaranto. In particolar modo cercano di capire dove è finita la macchina di Marina. La macchina viene ritrovata nei pressi dell'ospedale Mauriziano, ma della donna non c'è assolutamente traccia. È Giovanni, intorno alle 21.30, a trovare l'auto di Marina, parcheggiata nei pressi dell'ospedale Mauriziano. Non ci sono segni di scasso e all'interno dell'abitacolo tutto sembra in ordine. Non c'è niente di più angosciante della sparizione di un familiare, di un parente o di un amico. Mille domande cominciano a tormentare la mente degli amici, appunto, dei familiari. L'idea di non sapere esattamente che cosa sia successo diventa un'ossessione, un tarlo. Grazie a quel tarlo e grazie alla caparbietà, la forza di volontà dei familiari e degli avvocati dei familiari, che questo caso, seppure dopo tanti anni, verrà risolto. Dottor Lattanzi, dopo quanto tempo si può denunciare la scomparsa di una persona? La prassi, nel caso di scomparsa di persone adulte, è di rispettare le 24-48 ore dall'assenza. Ovviamente, se parliamo di minori, è importante e quindi si deve in qualche modo raccogliere nel più breve tempo possibile per tutelare l'incolumità del minore. Senti, in questo caso, però, nel caso di Maria Di Modica, abbiamo visto che in realtà non c'è l'evidenza né del reato né della scomparsa del suicidio possibile. Perché una persona che è scomparsa non viene definita semplicemente irreperibile, ma viene dichiarata deceduta? Sì, dichiarare una persona deceduta è previsto dall'articolo 58 del nostro Codice Civile, però devono trascorrere almeno 10 anni dalla dichiarazione di assenza di questa persona. Quindi, dopo questo periodo, necessariamente una persona viene definita deceduta? Sì, può essere richiesto la morte presunta trascorsi 10 anni dall'assenza della persona. Quindi, mai prima. Senta, che cosa fanno gli investigatori quando si sporge denuncia di scomparsa? Quali sono le prime cose che vengono fatte? Sono tantissime le investigazioni e le raccolte delle informazioni da parte degli investigatori. Cosa è più importante? Grazie a un nuovo strumento proprio che è stato inserito pochi mesi fa, nel novembre del 2012, che ha istituito la figura del commissario straordinario sulle persone scomparse, ma cosa più importante è che ha permesso a qualsiasi persona, anche un conoscente, di poter denunciare la scomparsa di una persona. Fino a qualche mese fa, solo i parenti potevano denunciare la scomparsa. E altro dato fondamentale è l'istituzione di un software specifico, che viene definito RISC, che permette appunto di inserire tutti i dati della persona scomparsa e che malauguratamente possono, in qualche modo, essere correlati con i cadaveri sconosciuti. Quindi c'è un archivio, diciamo, dei dati relativi ai cadaveri, alle persone scomparse, che vengono confrontate? Sì, in tempo quasi reale vengono correlati per escludere purtroppo già un omicidio o una morte della persona. Certamente, infatti, tra le piste seguite, anche nel caso di Marina di Modica, ci sono le ipotesi dell'allontanamento volontario e del suicidio. In questo caso specifico, però, lo vedremo tra poco, queste due ipotesi vengono scartate, ci sono molti elementi che le escludono, anche se resta una domanda. Che fine ha fatto Marina? E soprattutto, che cosa è successo la sera dell'8 maggio 1996? Durante le perquisizioni a casa di Marina si scopre un unico indizio. In via della Rocca, nell'appartamento di Marina, i familiari recuperano un'agenda nera, è l'agenda di lavoro di Marina di Modica. Il fratello di Marina, Marco, comincia a sfogliare quell'agenda e scopre una particolare molto importante. In corrispondenza dell'8 maggio, giorno della scomparsa di Marina, in particolare alle ore 18, c'è un appunto segnato su quell'agenda. Cena Paolo per Franco Bogli. E questo è l'appunto riportato sull'agenda di Marina. Pronto? Sì, ciao, sono Marco. Dal fratello di Bianca Tovo, una loro amica, Marco viene a sapere che il nome completo di quell'uomo è Paolo Stroppiana e che lavora alla Bolaffi. Ah, Paolo Stroppiana, un tuo amico. Ma hai il numero, per caso? L'appunto sull'agenda è fondamentale perché è la vera pista, è un indizio fondamentale. Si cerca quindi subito di capire chi sia questo Paolo. Paolo Stroppiana non negherà mai di essere lui il Paolo, però nega di aver avuto un incontro. Marco Di Modica, dopo aver recuperato il numero di telefono di Paolo Stroppiana, lo chiama, chiedendogli se ha notizie maggiori sugli spostamenti di Marina. Pronto? Pronto, signor Stroppiana? Sono Marco Di Modica, il fratello di Marina. Buongiorno, mi dica. Senta, la chiamo per chiedere delle informazioni. Marina è scomparsa qualche giorno e volevo chiederle se l'ha vista di recente. No, non mi pare. Neanche l'8 maggio? No, perché? Perché stavo guardando l'agenda di Marina e ho visto un appunto. Cena con Paolo per Franco Bolli. No, io l'8 maggio non ho visto Marina. Sì, ricordo che aveva dei Franco Bolli. Dovevamo vederci per valutarli, ma non abbiamo fissato nessun incontro. Ne è sicuro? Sì, non ho visto sua sorella mercoledì sera. Paolo Stroppiana dice a suo fratello di non averla vista, di non averla incontrata, che forse aveva in animo di vedersi con la donna, ma che poi non si erano assolutamente visti. Questo è l'ingresso in scena di Paolo Stroppiana in questa vicenda ed è un ingresso caratterizzato dalla menzogna. Allora, un elemento lo conosciamo. Marina ha segnato sulla sua agenda un appuntamento con un uomo per la sera dell'8 maggio 1996. Ma quell'uomo, l'avete visto al telefono con il fratello della presunta mittima, nega di aver mai organizzato e partecipato a quell'incontro. Ma chi è quell'uomo? E soprattutto perché nega di averlo organizzato, quell'appuntamento? Lo scopriremo tra poco. L'8 maggio 1996, Marina di Modica, una logopedista di Torino, sparisce nel nulla, senza lasciare tracce. Naturalmente all'inizio vengono valutate le varie ipotesi, un allontanamento volontario oppure un suicidio. Per quanto riguarda il suicidio però sono in molti a scartare subito queste ipotesi, perché Marina era una donna molto vitale, piena di progetti, sia di lavoro che di svago, per esempio stava pianificando una festa per il suo quarantesimo compleanno che ci sarebbe stato di lì a poco, oppure racconta al padre di voler pianificare un viaggio in Turchia, in moto, per l'estate successiva. Dunque Marina è una donna che pianifica il suo futuro, che ha dei progetti vitali e proprio per parlare di vacanze, tra l'altro aveva rinviato un appuntamento con un suo amico dall'8 al 9 maggio, presumibilmente per un impegno precedentemente preso, probabilmente proprio l'appuntamento con Paolo Stroppiana, di cui stiamo parlando questa sera. Dottor Lattanzi, ci sono elementi che fanno escludere anche l'ipotesi del suicidio nel caso di Marina di Modica. Come mai? Non si riscontrano delle caratteristiche tipiche di un temperamento suicidario o non esistono caratteristiche tipiche? Alcune caratteristiche possiamo riscontrarle, se così vogliamo definirle, in una patologia psicologica o psichiatrica, in una patologia medica. Quindi ben definita e ben certificata. Assolutamente sì, conclamata, oppure nel caso di un lutto, di una separazione, o comunque di un trauma molto, molto, molto forte che in qualche modo può condizionare l'esistenza di una persona. In altri casi, purtroppo, ribadisco, per fortuna non credo sia possibile tracciare un profilo esatto che possa in qualche modo prevedere una condotta di questo tipo. È un po' come in alcuni casi riscontriamo in una persona che toglie la vita ad un'altra persona, anche se in questo caso la persona toglie la vita a se stessa. Molte volte, ascoltando, raccogliendo le informazioni, escono fuori quelle frasi tipiche che spesso ascoltiamo o leggiamo, non ce lo saremmo mai aspettati, una persona vitale, una persona che aveva magari la famiglia, che aveva degli interessi, e non ci saremmo mai aspettati, appunto, nel caso del suicidio, che avesse in mente un progetto di questo tipo. Quindi grande sorpresa e stupore davanti dei parenti. Questo perché? Da che cosa dipende? Da cosa deriva? Potrebbe derivare anche da questa ipotesi, che poi è abbastanza suffragata da tante ricerche, anche noi come ricercatori dell'Università Tor Vergata stiamo prendendo in considerazione questi eventi, che una persona in qualche modo pianifichi dentro di sé la decisione di togliersi la vita. E nelle ultime ore, negli ultimi uno o due giorni, questa persona è come se riprendesse tranquillamente la propria esistenza e apparentemente non desse nessun segnale in questo senso. A proposito di segnale, il fatto di non aver ritrovato, per esempio, un bigliettino, un messaggio di saluti agli amici e ai parenti, anche questo ha contribuito a far escludere la pista del suicidio, nel caso di Marina Timotica, naturalmente. Nel caso specifico, anche in altri casi, possiamo non trovare un bigliettino d'addio, una sorta di lascito della motivazione piuttosto che del perché questa persona avesse deciso in qualche modo di agire un comportamento di questo tipo. Diciamo che anche l'analisi della grafia di questi biglietti di addio in qualche modo suffragano e quello che abbiamo precedentemente detto, ovvero che troviamo dei segnali di liberazione, dei segnali di calma, dei segnali di libertà che non ci saremmo mai aspettati forse in una scrittura lasciata qualche ora prima, qualche minuto prima o il giorno prima. Quello che è certo però è che Marina potrebbe anche essersi voluta allontanare, volontariamente. Anche in questo caso però la tesi viene scartata perché è poco credibile. Come mai, dottor Lantanzi, perché non ha dei comportamenti tipici di chi si vuole allontanare? Nel caso specifico di Marina possiamo escluderlo perché lei non avrebbe prelevato nulla dalla propria abitazione utile per poi scomparire in qualche modo e poter viaggiare e quant'altro. In altri casi, anche se la persona non preleva nulla dalla propria abitazione, queste persone sono in qualche modo sono fuori dal controllo dei parenti e degli amici, sono veramente proprio come se volessero scomparire definitivamente. Quindi succede che uno sparisce senza prelevare nulla, né documenti, né chiavi, nulla? Può succedere, sì. Può succedere che la persona all'improvviso decida ok, cambio vita, vado da un'altra parte, non voglio più nessun collegamento con la vita precedente. E letteralmente sparisco. Cerchiamo allora di capire meglio, attraverso le poche certezze, avete sentito, sono davvero poche di questo caso che cosa succede. Noi sappiamo che Marina di Modica ha segnato sulla sua agenda per l'8 maggio 1996 un incontro con tale Paolo Stroppiana che fa il filatelico presso la Bolaffi che è un'azienda molto nota che si occupa di Franco Bolli. Proprio i Franco Bolli sono un elemento fondamentale per la risoluzione di questo caso perché noi sappiamo che di Marina si sono perse le tracce. A casa sua però non manca assolutamente nulla tranne una scatola di Franco Bolli. Nel 1996, durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento di famiglia, Marina di Modica trova una collezione di Franco Bolli degli anni 30, appartenuta al nonno materno. E' il marzo del 1996 quando Marina, durante un trasloco nella soffitta dell'abitazione dell'anziana madre scopre una scatola di Franco Bolli. Non sa quanto valgono questi Franco Bolli, ha voglia di farli valutare a qualcuno. Le viene in mente che la sua amica Bianca Tovo un tempo prima le aveva parlato di un suo amico filatelico, di un conoscente che lavorava nel mondo dei Franco Bolli. Allora Marina contatta Bianca e le chiede di poter incontrare questo amico, questo filatelico, perché appunto aveva questo desiderio di far valutare i Franco Bolli. Bianca Tovo organizza una cena nella propria abitazione e questa cena si svolge la sera del 2 aprile del 1996. Ecco, è arrivata anche Marina. Buonasera. Marina, posso presentarti Paolo? E' lui l'esperto che lavora alla Bolaffi. Ah, finalmente. Piacere. Buonasera. Si ritrovano a cena e scatta subito una simpatia reciproca, un feeling. Tanto è vero che Paolo Stroppiana inizia poi a telefonare, la chiamerà sette volte. sono molto belli. degli anni trenta. Non mi pare che siano di gran valore. Beh, non vorrei essere frettoloso. Per una stima precisa dovrei controllare i cataloghi che non è ufficio. capisco. Magari potrebbe essere un'occasione per i vedersi. Nel corso di questa serata, come disse Stroppiana, lui visionò i francobolli, capì che non avevano un particolare valore, ma lui usa questa espressione che fece la corte in modo molto blando. Ecco, corteggiai blandamente, disse la ragazza perché vide che da parte della donna vi era un certo interesse e in realtà qui non sbagliato. Bene. Grazie. Marina ha subito diciamo interloquito con Paolo Stroppiana e si era trovata anche abbastanza bene. Ha commentato questo a questa persona con la signora Marina Ferrero, compagna del papà di Marina, nonché attuale moglie del professore Gaetano Di Modica, indicando, usando un aggettivo particolare per Paolo Stroppiana, l'ha definito stranocchio. Paolo Stroppiana è un personaggio particolare, una personalità complessa. Ha un passato decisamente fuori dal comune perché fin da giovanissimo a 15 anni si contraddistingue per alcuni episodi di violenza e appena diciottenne entra nei fronti versivi dell'estrema destra e avrà un ruolo fondamentale come collaboratore nel processo per la strage di Bologna. C'è anche un altro mistero legato al passato e alla vita di Paolo Stroppiana, un mistero che riporta ad una ex collega di lavoro di Paolo, Camilla Bini, ex dipendente Bolaffi che sparisce misteriosamente durante il mese di agosto del 1989. In realtà di Franco Bolli cominciano a parlare Paolo e Marina durante una cena a casa di amici poco tempo prima. È proprio in quell'occasione che i due decidono di risentirsi proprio per entrare un po' meglio nei dettagli tecnici della questione. In realtà Paolo Stroppiana sarà lo stesso lui a confessarlo, era anche molto attratto da questa donna quindi in realtà non aveva intenzione probabilmente solo di parlargli degli aspetti tecnici dei Franco Bolli. Dottoressa Carlini è lo stesso appunto a confessare questa attrazione per Marina che cosa ricorda Stroppiana di quella serata? Come la descrive? Sì, ricorda di questa cena venuta a casa di un'amica in comune del fatto che appunto Marina le avesse fatto visionare questa scatola di Franco Bolli e del fatto che loro si erano impegnati a risentirsi successivamente per telefono proprio per affinché lui le comunicasse il valore di questi Franco Bolli e le modalità di rivenderli all'asta. Però è anche vero che poi confessa cioè racconta anche di un interesse di averla un po' corteggiata in quella serata proprio perché aveva saputo che non era impegnata e quindi di aver approfittato di questa situazione. Quindi era stato colpito da questa donna e lei invece? Ma allo stesso modo Abbiamo delle notizie su come aveva vissuto lei questa situazione? Sì, Marina racconta a molti di questo rinvenimento di questa scatola di Franco Bolli e a due amiche nel particolare racconta anche di Paolo Stroppiana come di una persona che le interessava che poteva essere il tipo di persona a cui lei poteva essere interessata e entrambe hanno la percezione che questa valutazione dei Franco Bolli sia un po' un pretesto insomma per avere la possibilità di un ulteriore incontro. Infatti in realtà proprio a causa di questi Franco Bolli Paolo e Marina cominciano a sentirsi telefonicamente diverse volte sette per la precisione secondo gli atti e tra l'altro proprio su questo punto lo stesso Paolo Stroppiana entrerà in contraddizione varie volte. Comunque diciamo che in virtù anche di queste telefonate il nome di Paolo Stroppiana che a quel tempo era considerato un frequentatore della Torino viene fuori comincia a finire sui giornali e come sempre accade in questi casi si comincia a indagare anche nel suo passato le persone che conosceva le persone che conosce e tra l'altro si indaga su una persona l'avete sentito già nella ricostruzione fare riferimento si indaga infatti su una scomparsa di un'altra donna che è anche lei in qualche modo legata a Paolo Stroppiana e poi si comincia a indagare anche su una persona che è la sua attuale compagna in quel momento cioè Beatrice della Croce di Doiola in che modo sono messe in relazione queste cose ma è soprattutto l'avvocato illegale della famiglia di Modica che nota per primo diciamo così queste affinità tra questi due casi nel senso che la scomparsa di questa donna che lavorava alla Bolaffi esatto di Camilla Bini perché anche Camilla ha questa conoscenza con Stroppiana e con la della Croce proprio perché appunto è una dipendente della Bolaffi anche lei scompare in modo misterioso senza aver lasciato traccia di un possibile allontanamento volontario di un suicidio e soprattutto quello che collega a questi due fatti è il comportamento ambivalente piuttosto ambiguo di Stroppiana ma anche della Croce con la quale in teoria la Bini aveva progettato una vacanza quindi si conoscevano quello che volevo capire in quella fase subito dopo la scomparsa di Marina di Modica nessuno mette in collegamento al di là dell'avvocato questi due fatti e comincia a indagare in modo serio su questa vecchia scomparsa in realtà sì nel senso che dal 2002 proprio sulle insistenze del legale della famiglia di Modica che poi diventerà anche legale della famiglia Bini anche la procura e alcuni inquirenti noteranno delle forti affinità tra i due casi oltretutto il caso della scomparsa di Marina verrà anche affiancato ai casi delle bambole rotte cioè a sei casi di donne uccise in circostanza misteriosa proprio nel territorio torinese tra il 1988 e il 1992 in realtà questa è sicuramente un'ombra nel passato di Paolo Stroppiana ce n'è un'altra però che in qualche modo entra all'atere in quello che poi vedremo il processo per la morte di Marina di Modica cioè la partecipazione di Paolo Stroppiana alla vita politica molto dura che c'era stata negli anni 70 in un libro dei NAR per esempio si parla di lui come facente parte di un gruppo di estrema destra in che modo Stroppiana era legato all'impegno politico dell'eversione di destra ma dobbiamo dire che Stroppiana partecipa come testimone pentito al processo per la strage di Bologna partecipa poi come testimone al processo per la strage di Piazza Fontana e alcuni lo accostano appunto all'attivismo di estrema destra altri addirittura ipotizzano la sua appartenenza ai servizi segreti in particolare al SISDE bisogna anche dire però che Stroppiana ha sempre allontanato da sé questi accostamenti quindi per correttezza non ci sono non ci sono prove in realtà sono solo ipotesi insomma di questa sua partecipazione se questo è il quadro diciamo sulla vita l'ipotesi naturalmente sulla vita di Stroppiana completamente diverso è quello che raccontano i testimoni della vita di Marina di Modica che è una persona invece estremamente tranquilla l'avete visto meticolosa precisa puntuale è anche naturalmente una donna però single lo dicevamo lo stesso Stroppiana lo sottolinea durante la cena tra amici una donna che in qualche modo quindi rimane incuriosita per la possibile nascita di una storia d'amore con Paolo Stroppiana dunque è facile immaginare che Marina proprio perché interessata a un possibile incontro con Paolo Stroppiana si preparasse ad uscire con lui quella sera quello che è importante capire è che cosa succede nelle ore immediatamente precedenti alla sua scomparsa lo scopriremo tra poco l'unica certezza che abbiamo dunque è che Marina di Modica è sparita di lei tranne la macchina non si ritrova più nulla ma quello che sappiamo anche è che probabilmente prima di scomparire nel nulla Marina di Modica trascorre un pomeriggio di relax e di shopping alle 16.42 dell'8 maggio Marina timbra per uscire dall'USL di Via Chiabrera dove lavora e si dirige a fare shopping alle 17.10 Marina compra un paio di scarpe alle 17.24 in un altro negozio acquista anche due paie di calze Marina si reca in casa raggiunge l'appartamento in Via della Rocca si trucca si cambia indossa le scarpe e le calze acquistate poco prima prende la scatola di Franco Bolli che non verrà più ritrovata in quell'appartamento lì ed esce da allora non si sa più nulla di lei si perdono le tracce la casa la casa è un'ordine tipico di chi la lascia in fretta per dire vabbè tanto poi quando torno riassetto la cosa interessante è che nella casa trovano tutti i vestiti tranne un impermeabile blu e trovano addirittura anche il passaporto da qui dunque a pensare che la donna abbia voluto in quel momento lasciare volontariamente la sua abitazione la sua abitazione e la vita sino allora condotta era un'idea assolutamente assurda come poi si dimostrò essere dunque abbiamo visto Maria di Modica esce dal lavoro compra delle calze delle scarpe torna a casa si cambia poi prende la macchina per uscire e da quel momento il buio più assoluto le indagini devono cominciare a capire che cosa sia successo e si comincia naturalmente a sentire Paolo Stroppiana dottoressa Carlini che cosa emerge di Stroppiana dal suo rapporto con le donne con le sue relazioni sentimentali diciamo che chi lo conosce in ambito lavorativo sociale lo descrive assolutamente come una persona tranquilla calma forse addirittura troppo calma anche in seguito a questa vicenda che lo aveva riguardato qualcuno dice era come se non lo avesse toccato però in merito dal suo rapporto con le donne emerge la sua tendenza a praticare il sesso sadico delle pratiche appunto sessuali che potevano anche provocare lo strangolamento o il soffocamento questo lo raccontano persone che l'hanno conosciuto dai suoi racconti esatto sì di questo ne parla sia una donna che aveva avuto con lui una relazione e racconta proprio di un episodio intimo durante il quale lei si era trovata con una mano talmente stretta al collo da causarle dolore e lo racconta anche Beatrice della Croce che era appunto l'attuale compagna all'epoca di Stroppiana naturalmente questo è bene dirlo non c'è nessun elemento che ci faccia immaginare supporre che ci sia stato un incontro erotico intimo tra Paolo Stroppiana e Marina di Modica perché l'unica traccia di quella serata che rimane ancora oggi sono poche parole scritte sull'agenda di Marina di Modica cena Paolo per Franco Bolli e quindi necessariamente da Paolo Stroppiana si deve partire infatti subito dopo viene ascoltato Paolo Stroppiana Paolo Stroppiana viene identificato a seguito di quella annotazione che Marina di Modica aveva posto sulla sua agenda per il famoso appuntamento tra il 18 e il 19 dell'8 maggio a seguito di questa annotazione lo stesso fratello telefonando alla Polaffi era riuscito a identificare Paolo Stroppiana Paolo Stroppiana quindi entra nelle indagini già a far data dal 14 di maggio ovvero tre giorni successivi a questa telefonata il 14 maggio Paolo Stroppiana viene convocato presso gli uffici della polizia e interrogato come ha conosciuto Marina di Modica conosco Marina di Modica perché abbiamo un'amica comune Bianca Tovo la signora Tovo mi ha contattato perché Marina di Modica aveva trovato una raccolta di Franco Bolli a casa della madre e voleva farle valutare vi siete incontrati? sì nel mese di aprile durante una cena a casa della Tovo e poi non vi siete più incontrati? no cosa mi può dire dell'appunto che la ragazza aveva preso sulla sua agenda b.cena paolo per f.bolli in merito a quell'appuntamento dell'8 maggio non era stato assolutamente concordato non lo so forse quella notte è soltanto un appunto per ricordarsi e telefonarmi Paolo Stroppiana nega prima ai familiari e poi alla polizia di avere un incontro con Marina non nega di conoscerla non nega di essere lui Paolo però dice di non aver fissato alcun incontro solo in seguito qualche cosa cambierà durante le indagini sull'omicidio di Modica anche durante i processi il miglior assist Paolo Stroppiana arriva dalla sua ex fidanzata fidanzata storica Beatrice della Croce di Doiola e lei infatti che fornisce un alibi a Paolo per la sera dell'8 maggio 1996 Beatrice dice Paolo quella sera era a cena da me a questo alibi tuttavia la procura non crede e in effetti con il passare del tempo con il proseguo delle indagini l'alibi si rivela falso tant'è che Beatrice della Croce viene indagata e poi processata per falsa testimonianza non verrà condannata perché nel frattempo il reato cadrà in prescrizione ma l'alibi comunque di questo è certo la procura è un alibi falso quindi avete sentito c'è la prima anomalia che insospettisce perché Stroppiana convocato per la prima volta dagli inquirenti nega di aver mai pianificato o concordato un incontro con Marina di Modica tra l'altro questo verrà definito dal PM con parole molto chiare sentite dice un biglietto da visita bugiardo e questo biglietto da visita costerà molto caro a Stroppiana tra l'altro questa bugia verrà ripetuta perché il 28 maggio a 20 giorni dalla scomparsa di Marina Stroppiana verrà nuovamente sentito e nuovamente tornerà a mentire su quella circostanza a mentire naturalmente secondo quanto poi è stato stabilito dalle sentenze perché negherà ancora una volta di aver pianificato l'incontro serale con Marina di Modica quindi diciamo che l'immagine di Stroppiana comincia un po' a crinarsi si cominciano ad avere dei dubbi sulla sua credibilità dottoressa Carlini possiamo configurare un tipo di mentitore professionista nei confronti di Stroppiana uno che dice bugie in modo seriale non possiamo delinearne un tratto di personalità perché purtroppo non sono state condotte delle indagini cliniche in merito proprio alla struttura di personalità dello Stroppiana però il PM lo definisce proprio come un imputato che indossa la maschera della menzogna ancora prima di diventare imputato perché effettivamente ci sono dei passaggi che poi non vengono confermati cioè a partire da questo incontro che lui prima nega poi invece ammette di essere stato progettato ma disdetto per un fortissimo mal di schiena di cui le tracce però non sono gli accertamenti non sono così limpidi e chiari e poi si contraddice anche sulle telefonate sul numero di telefonate intercorse tra lui e Marina quindi ci sono diversi aspetti su vari piani su vari piani lui in realtà mente non soltanto su vari aspetti su vari aspetti poi però succede qualcosa perché i ruoli improvvisamente si ribaltano cioè Stroppiana si presenta volontariamente dagli inquirenti e ribalta appunto la versione dei fatti cioè spiega il perché ha mentito su quell'incontro Paolo Stroppiana è sotto l'occhio del riflettore perché i giornali parlano costantemente di lui lo indicano come sospettato e pertanto lui si sente come si dice assediato allora medita molto sulle dichiarazioni che era rilasciato ed iniziativa dunque quasi giocando d'anticipo si presenta alla polizia giudiziaria il 7 giugno e dice cari signori quello che vi ho detto non è vero il 7 giugno Stroppiana si presenta volontariamente in questura affermando di non aver detto la verità durante l'interrogatorio precedente allora mi dica cosa vuole rettificare l'unica imprecisione alle mie dichiarazioni è che effettivamente io avevo concordato un appuntamento con la signora di Modica diciamo per la serata dell'8 maggio appuntamento che comunque non è avvenuto è che io probabilmente è disdetto con una telefonata che avevo fatto il 6 o il 7 maggio non mi ricordo bene perché ha disdetto l'appuntamento? non mi sentivo bene fisicamente io avevo telefonato da casa mia alle 8 del mattino di questo sono certo prima che Marina di Modica andasse a lavoro io poi avevo soltanto il numero dell'abitazione perché potevo telefonare soltanto in certe fasce orarie perché ha mentito la prima volta? la ragione per cui non ho riferito alla polizia la circostanza dell'appuntamento è che avevo preferito rimanere fedele alla versione data dall'inizio anche la mia fidanzata Beatrice alla quale io avevo negato di aver preso un appuntamento con la di Modica perché? non volevo che ci fosse una scenata di gelosia da parte della mia fidanzata Beatrice Paolo Stroppiana praticamente da quando è entrato nell'indagine ha sempre mentito su ogni sua dichiarazione in merito ai fatti accorsi l'8 di maggio anche perché addirittura si era creato un alibi del mal di schiena dichiarando che lui aveva revocato l'appuntamento perché soffriva di una sciatalgia molto forte cosa che in effetti non era poi così vera perché comunque le consulenze anche fatte in sede processuale hanno dimostrato che non ci poteva essere questo tipo di patologia dal 96 fino ai primi anni 2000 quindi per 5-6 anni Paolo Stroppiana è semplicemente un testimone un test una persona informata sui fatti non c'è alcuna iscrizione nel registro degli indagati l'iscrizione avviene soltanto nel momento in cui il fascicolo passa nelle mani di un nuovo magistrato il pubblico ministerio Onelio Dodero e lui a indagare per la prima volta Stroppiana con l'accusa di omicidio per anni si è indagato sino a quando si è riusciti a ottenere i tabulati del traffico telefonico che cosa è stato accertato che Stroppiana non chiamò soltanto due o tre volte Marina dei Modica ma sette volte la prima volta la chiama in due occasioni il 9 di aprile poi la richiamerà il 15 di aprile poi la richiamerà ancora il 22 di aprile poi la richiamerà ancora il 5 maggio senza avere risposta e la richiama il 6 maggio come vedete non esiste alcuna telefonata tra il 29 di aprile e il 4 di maggio periodo di tempo in cui Stroppiana dice io ho fissato l'appuntamento con Marina dei Modica per vederci l'8 maggio e quindi l'ho disdetto il 6 maggio dall'esame di tabulati mancava la telefonata con la quale Stroppiana diceva io ho fissato l'appuntamento nel processo di secondo grado l'accusa affronta le abitudini sessuali dell'imputato perché una delle ipotesi che vengono fatte è che Marina e Paolo possano avere avuto un incontro sessuale che sia sfociato in tragedia vengono quindi interrogate le ex fidanzate del Paolo Stroppiana qualcuna racconta che ogni tanto era capitato che durante il rapporto Paolo le avesse stretto il collo proprio all'apice dell'apporto qualcuna racconta dell'uso di manette sarà soprattutto il PG Vittorio Corso durante la requisitoria nel processo di secondo grado a insistere particolarmente sulle abitudini sessuali violenti di Paolo Stroppiana durante la sua requisitoria infatti il PG dirà apertamente che Paolo Stroppiana potrebbe aver ucciso Marina di Modica durante un rapporto sessuale proprio strangolandola magari non volendolo però potrebbe insomma aver perso il controllo avere un tantino esagerato e quindi insomma Marina potrebbe essere morta proprio in quel modo durante un rapporto sessuale dunque Stroppiana dà la sua versione dei fatti spiega di aver mentito per paura della gelosia della sua compagna di allora tale Beatrice in realtà Beatrice fa di tutto per salvarlo gli fornisce addirittura un alibi per la serata naturalmente la famigerata serata dell'8 maggio del 96 il gelo dunque va avanti sembra davvero senza soluzione perché le indagini proseguono ma senza trovare degli elementi fondamentali sembra uno di quei casi destinato a finire nel dimenticatoio senza una vera soluzione però c'è un però perché i familiari di Marina non si arrendono vogliono assolutamente scoprire che cosa sia accaduto non si danno pace e per molti anni l'avvocato della famiglia di Modica Stefano Castrale che poi peraltro verrà incaricato anche dalla famiglia di Camilla Bini di occuparsi proprio della scomparsa della ragazza insiste perché le indagini continuino inutilmente però soltanto molti anni dopo si riesce a trovare una sponda nel PM Onelio Dodoro che si interessa a questo caso siamo arrivati al 2002 e quindi le indagini riprendono viene addirittura analizzata la macchina di Stroppiana viene sottoposta a sequestro non vengono trovate tracce del DNA di Marina di Modica ma questa volta la macchina della giustizia non si ferma perché anche se paradossalmente il PM nel 2004 è costretto a chiedere l'archiviazione del caso gli avvocati si oppongono a questa richiesta peraltro chiedono anche un supplemento di indagini per Camilla Bini e alla fine il giudice chiede il rinvio a giudizio per Paolo Stroppiana proprio per la scomparsa la presunta morte di Marina di Modica Avvocato Paglia quando è possibile istruire un processo anche in mancanza del corpo della presunta vittima in questo caso se non sbaglio non c'è anche l'evidenza della morte di Marina di Modica è certamente possibile è certamente possibile ad esempio per fare diciamo un caso di ordine generale qualora un soggetto abbia reso confessione quindi se l'omicida effettivamente dichiara di aver commesso il fatto e queste dichiarazioni sono precise sono dettagliate sono puntuali quindi trovano dei riscontri esterni in questo caso è possibile dar corso alle indagini celebrare il processo fin tanto aggiungere la sentenza di condanna anche se non si ritrova il corpo nel caso di Stroppiana però questo non si verifica perché lui nega qualsiasi cosa anzi si proclama innocente esatto non è questo il caso di Stroppiana non confessa si proclama innocente e in questo caso tutto prende le mosse dal ritrovamento di un'agenda un'agenda nella quale era appunto fissato l'appuntamento tra egli stesso e Marina di Monica quindi questo è un motivo sufficiente per far partire un processo in questo caso in questo caso lo è stato è chiaro che sono vicende piuttosto controverse sul nascere perché dobbiamo tenere comunque presente che Stroppiana non assume immediatamente la qualità di indagato inizialmente è persona informata sui fatti poi teniamo presente anche un altro passaggio che vi fu comunque una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero la quale posero posizioni familiari di Marina di Modica e il giudice per le indagini preliminari poi ordinò al pubblico ministero di formulare l'imputazione quindi diciamo che sono posizioni sul nascere piuttosto controverse che nel corso dell'indagine nel corso del tempo trovano le loro certezze a proposito di questo alla fine Stroppiana verrà condannato quali sono gli elementi che hanno portato a ritenere Stroppiana colpevole perché ha visto già nell'istruzione del processo la situazione è complessa comunque molto rara quali sono le prove più forti più evidenti ma certamente avendo riguardo a quanto è indicato anche nella sentenza di Cassazione vengono particolarmente resi evidenti innanzitutto il ritrovamento dell'agenda in cui era fissato l'appuntamento e così accompagnata dalla mancanza della famosa scatola di Franco Bolli sintomo che effettivamente un incontro ci dovrebbe essere stato esatto esatto vi sarebbe stato poi sono prese in considerazione queste versioni contrastanti che sono date da Stroppiana in quanto in un primo momento negherà effettivamente aver avuto un appuntamento con Marina di Monica poi in un momento successivo riferirà effettivamente che un appuntamento era fissato ma egli stesso lo avrebbe revocato quindi l'avrebbe disdetto e poi viene individuato anche come elemento direi fondamentale il problema dell'alibi un alibi che alla fine dei vari gradi di giudizio è risultato non provato quindi come tale un alibi non provato è neutro per cui non può essere valutato a favore del soggetto che lo invoca senta c'è qualcosa di più perché Stroppiana non solo viene condannato ma viene ritenuto colpevole di omicidio preterintenzionale spieghiamo bene che cos'è quando è che si configura l'omicidio preterintenzionale preterintenzionale oltre oltre l'intenzione l'omicidio preterintenzionale per dare la definizione tecnica prevista dal nostro codice penale sia allorché un soggetto voglia compiere atti diretti a causare lesioni personali o percosse quindi voglia ferire colpire violentemente una persona e ne cagiona invece la morte quindi cagiona la morte della persona offesa come evento non voluto però quindi la morte si configura come evento non voluto in realtà vuole commettere altro per fare un esempio tipico laddove vi fosse un litigio un soggetto colpisce violentemente con un pugno una persona questa cade a terra batte la testa e muore questo è il caso è il caso tipico dell'omicidio preterintenzionale dunque Paolo Stroppiana viene condannato per l'omicidio preterintenzionale ma perché esattamente si configura questo reato avendo riguardo alla sentenza di Cassazione vi è un complesso e compiuto ragionamento giuridico che viene in quel caso recepito ora essendo impossibile ricostruire la dinamica della vicenda quindi la dinamica dei fatti non essendovi comunque il corpo della vittima è stato ritenuto che non potesse essere condannato per omicidio colposo poiché se avesse cagionato la morte in Marina di Modica per negligenza per imprudenza beh in quel caso si sarebbe adoperato a soccorrerla e non si sarebbe comunque sobbarcato la difficoltà e il rischio di occultarne il cadavere per cui utilizzando un principio del nostro ordinamento che è quello del favorei se in questo caso optato per quella che fosse l'ipotesi meno gravosa per l'imputato vorrei spieghiamolo che è a favore dell'imputato esatto quindi in questo caso rimanendo le altre due ipotesi di omicidio quello volontario e quello preterintenzionale in assenza appunto di dimostrazioni circa la dinamica dei fatti si è optato per l'omicidio preterintenzionale allora proprio in base a queste considerazioni vediamo come sono andati i processi del caso Stroppiana il 30 gennaio 2006 la corte d'assise di Torino riconosce in primo grado Paolo Stroppiana colpevole per l'omicidio preterintenzionale di Marina di Modica la donna scomparsa 14 anni prima e lo condanna a 21 anni di carcere il 21 luglio 2008 in secondo grado la corte di appello di Torino riduce la pena a 16 anni ma la sentenza definitiva arriva quando la corte di Cassazione conferma la condanna della corte d'assise di Torino a 14 anni di reclusione in primo grado Stroppiana viene condannato a 21 anni di carcere scenderà la pena prima a 16 anni e poi a 14 anni di carcere è un processo che è durato tantissimo è stata scandagliata una fetta della città una fetta della Torino Bene in aula sono sfilati tanti testimoni che hanno a volte avuto un atteggiamento di omertà pur appartenendo a una parte della società da cui l'accusa si aspettava invece tutt'altra collaborazione è un processo che ha sempre diviso l'opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti e lo ha fatto anche la sentenza anche una sentenza ormai definitiva sentenza che continuano comunque a dividere e soprattutto gli innocentisti continuano comunque a sostenere che non si potesse condannare a 14 anni di carcere una persona contro la quale in realtà probabilmente non ci sono prove ma soltanto indizi non c'è il corpo di Marina non c'è l'arma con cui Marina sarebbe stata uccisa io mi limito semplicemente a prendere atto della sentenza e a essere molto soddisfatto per la grandissima fatica questo sì che abbiamo profuso noi investigatori in tutti i lunghi anni delle indagini sulla scomparsa di Marina di Montica e che ci hanno in questo senso sì dato ragione della bontà non solo delle tesi e delle supposizioni ma delle prove che avevamo portato avanti la Corte d'Assise perché il pubblico ministero e gli investigatori sono sempre abituati a sostenere provando la sentenza è una sentenza che ha valutato tutti gli elementi diciamo quelli a favore all'innocenza di Stroppiana e gli indizi contro lo Stroppiana sono non una ma sono state quattro sentenze quattro corti diverse che sono andate a valutare il caso di estrema difficoltà non si era in presenza di un cadavere non si aveva l'arma del delitto non si ha un movente ben specifico ma ben quattro giurie di cui tre giurie popolari hanno dichiarato la responsabilità di Paolo Stroppiana la giustizia ha analizzato tutto e quindi noi noi come difensori di parte civile siamo soddisfatti anche se ci manca il risultato per cui abbiamo sempre lottato vale a dire ritrovare il corpo della povera Marina abbiamo visto che ci sono anche altri protagonisti in questa vicenda allora vediamo insieme che fine hanno fatto al giorno d'oggi attualmente Stroppiana si trova nella casa circondariale di Torino dove è ristretto è in una sezione particolare di questa casa circondariale perché nella sezione dei cosiddetti studenti universitari e sta scontandogli la sua pena un detenuto modello così lo descrivono gli altri detenuti così lo descrivono anche gli agenti di polizia penitenziaria si è iscritto all'università studia scienze politiche ha già sostenuto un buon numero di esami con un'ottima media e trascorre gran parte del suo tempo in cella legge legge tantissimo e lì proprio in quella cella rimarrà perlomeno fino al 2017 2018 dopodiché una volta comunque scontata almeno metà della pena potrà finalmente godere della semilibertà questa vicenda dimostra che chi scompare senza alcuna ragione e dunque in modo assolutamente ragionevole ha avuto una risposta dalla giustizia la giustizia è intervenuta e ha seguito il suo corso un risultato si è ottenuto il giaro di Modica adesso ha un finale Paolo Stroppiana è colpevole almeno così hanno stabilito i giudici della Cassazione questo è un risultato che però non soddisfa pienamente la famiglia di Modica perché l'obiettivo della famiglia è sempre stato un altro capire che fine ha fatto Marina il grande tormento della famiglia di Marina è quello di non sapere dove è stata sepolta o gettata la donna di non avere una tomba su cui piangere hanno sempre chiesto che Paolo Stroppiana dicesse dove fosse finita allora non interessava che fosse condannato a 15 20 30 anni di carcere la cosa più importante era avere una tomba su cui portarle un fiore la famiglia di Modica considerando Marina Ferrero Gaetano di Modica e Marco di Modica hanno dimostrato una coesione e soprattutto una forza di volontà oserei dire unica hanno lottato dal 1996 fino al 2011 e continuano ancora nella speranza di trovare il corpo della povera Marina dunque un caso davvero singolare una donna che scompare nel nulla e non viene più ritrovata un uomo che viene accusato e condannato per il suo omicidio in realtà inchiodato prevalentemente a causa delle bugie che dice delle contraddizioni in cui cade in realtà è un giallo per cui sono stati necessari 15 lunghi anni per essere risolto un caso che fa scuola per le sue caratteristiche per le sue peculiarità perché ancora oggi il cadavere lo avete appena sentito di Marina di Modica non è stato ritrovato e soprattutto non è stato scoperto riscontrato un movente per questo omicidio in questo caso il caso di Marina di Modica come tutti i casi che affrontiamo nelle diverse puntate vi ricordo lo potrete rivedere e seguire sul nostro sito www.donnevittimecarnefici.la7d.it oppure ci potete scrivere chiedere informazioni notizie sui vari casi che trattiamo utilizzando la casella di posta www.donnevittimecarnefici.la7d.it molto complicato davvero un giallo il caso che abbiamo affrontato questa sera molto più chiaro invece più delineato quello della prossima puntata il protagonista è un ragazzo un giovane ragazzo che viene ucciso a colpi di coltello tanti colpi di coltello 38 per la precisione e a colpirlo è la sua donna la sua compagna è il caso Mongelli a donne vittime carnefici un giovane un giovane un giovane un giovane Grazie a tutti.